Tre persone, fra cui due cognati, sono state arrestate ieri sera in fragranza di reato dai carabinieri della stazione di Maschali con l'accusa di rissa gravata in concorso. I fatti si sono verificati ieri sera poco dopo le 20 in un condominio di via Vespucci a Carrabba di Maschali, protagonisti della violenta baruffa, un bracciante agricolo di 56 anni, un imprenditore di 48 anni e un giovane disoccupato di 22 anni, tutti arrestati in fragranza di reato e un 54enne che è stato invece denunciato in stato di libertà. All'origine della violenta lite pare vi siano stati dei motivi familiari. Alcuni parenti che ieri stavano assistendo alla scena hanno subito chiamato i carabinieri al 112 che giunti sul posto hanno poi trovato la lite ancora in piena svolgimento. Unitamente ai carabinieri sono poi intervenute anche due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti presso gli ospedali di Aciriale e Taormina. Il ferito trasportato ad Aciriale è stato curato e poi successivamente dimesso con una prognosi di 30 giorni, mentre l'altro trasportato all'ospedale San Vincenzo di Taormina è ancora ricoverato per diversi politraumi. Intanto per un id al tribunale di Catania è in programma il processo per direttissima carico dei tre arrestati e della persona denunciata in stato di libertà.